Ogni giorno ne sentiamo parlare sui giornali, sui social, in tv. Andrangheta, camorra e mafia, per tutte vale la stessa definizione. Organizzazione criminale, suddivisa in più associazioni, cosche o famiglie, rette dalla legge dell'omertà e della segretezza, che esercitano il controllo di attività economiche illecite. Ormai non più distinte, sono un tutt'uno e per semplificare utilizziamo il termine mafia. In quali territori svolge le proprie attività illecite la mafia? Ovunque, la mafia attiva ovunque, non è una questione territoriale, è presente dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando anche per la Sardegna e le isole minori. Dove nasce, dove sono i capi? Le teste pensanti sono ben distribuite dove servono, quindi non è che nasce comunque al sud, ma in alcuni casi è nata anche al nord, dal Veneto alla Mala del Brenta, quindi non è poi più oramai nemmeno un falso che al nord non sia nata la mafia. Al nord è nata anche la mafia in Veneto. E poi oggi ci sono le mafie al nord che sono state clonate da quella al sud, sono andate avanti per clonazione. Quindi oramai è così distribuita che non ha più senso fare differenze. È legata ad un colore politico o gruppo specifico? È trasversale e va dove ve li conviene andare, a seconda di chi vince. Consiglio a chi sta vincendo le elezioni di tenere alta la guardia.